E adesso diamo la parola al dottore Emilio Clementi che ci parlerà dell'isofen. Grazie Filippo per l'invito. Quello di cui vi parlo oggi è lo sviluppo che stiamo portando avanti di una terapia a base di un antinfiammatorio non steroideo che è ibuprofene e un donatore di nitrossido che è isosorbida di nitrato. Perché un approccio farmacologico? Noi abbiamo sentito questa mattina tutti gli approcci molto belli, molto innovativi di cura della terapia sia con approccio genico sia con approccio cellulare ma come giustamente diceva anche Giulio ci sono alcuni aspetti perché una vecchia classica approccio farmacologico è ancora molto importante perché può portare una riduzione di utilizzo di altri farmaci che sono più tossici può rallentare la progressione di malattia e quindi dare del tempo e soprattutto può permettere la combinazione di una terapia farmacologica con le terapie geniche e cellulari. Le terapie farmacologiche di questo tipo sono anche applicabili a tutti i pazienti e sono anche, e questa è una notazione per chi vede i conti del sistema sanitario nazionale sicuramente sopportabili dal sistema sanitario nazionale. Perché abbiamo investito sul nitrossido? Ieri avete sentito da Irene Bozzoni bene il ruolo di questo enzima NO sintasi neuronale nella sua relazione con la distrofina e ha tutte le conseguenze che questo ha in fisiologia e in patologia quindi non voglio dilungarmi su questo mi limito soltanto a darvi qualche idea del perché l'NO è importante nel muscolo è importante nel muscolo sia dal punto di vista della fisiologia del muscolo adulto fondamentalmente perché fa due cose regola l'accoppiamento tra eccitazione e contrazione e nello stesso tempo fornisce nutrienti al muscolo attraverso una serie abbastanza complessa e ampia di meccanismi nei quali non è questa la sede per andare nel dettaglio ma accanto a questo c'è un effetto molto importante da parte dell'NO sui processi di riparo del muscolo e sui processi di miogenesi soprattutto è stato visto che è in grado di regolare tutti i passaggi che portano alla proliferazione, al differenziamento e alla fusione delle cellule miogeniche alla fibra quindi sostiene in modo ragionevole l'attività di queste cellule nel riparo muscolare e ne mantiene anche quel pool di riserva che è un pool molto importante perché è quel pool che può andare incontro ad esaurimento se come nella patologia di distrofia muscolare il danno muscolare è ripetuto e continuo ma ovviamente noi sappiamo che la distrofia muscolare è una malattia con una forte componente infiammatoria non si può pensare che il NO da solo possa avere un effetto realmente terapeutico e di fatto nei modelli animali di malattia il NO da solo non ha una reale efficacia noi abbiamo pensato di combinarlo con dei farmaci antinfiammatori non steroidei sono stati tanti studi, io vi porto soltanto qui una fotografia giusto per fare il punto utilizzando, mostrandovi i dati della combinazione che poi noi abbiamo sviluppato per l'aspetto clinico e voi vedete che il muscolo è molto la struttura e l'architettura del muscolo questo è un topo MDX molto meglio conservata e soprattutto se voi guardate rispetto agli animali non trattati gli animali trattati sono in grado di resistere più a lungo all'esercizio e hanno anche un movimento spontaneo maggiore tutto questo è molto bello ma sono evidenze precliniche questo può avere una rilevanza clinica e vi ricordate l'anno scorso vi avevo già presentato dei dati preliminari di un primo studio pilota che è teso proprio a valutare l'ipotesi di poter portare in clinica la combinazione di ibuprofene e disosorbidente di nitrato i dati sono ora pubblicati quindi io ne parlerò assolutamente in modo molto rapido vi ricordo che era uno studio in aperto era uno studio di anche qui soprattutto di sicurezza e tollerabilità lunga durato un anno in cui sono stati confrontati 35 pazienti che hanno preso il farmaco la combinazione di farmaci e dei pazienti controllo il trattamento è stato un trattamento volutamente con dosi basse dei due farmaci 20 mg di disosorbide di nitrato che non è molto si può andare molto più su e ibuprofene 200 mg due volte al giorno ovviamente un antinfiammatorio o uno steroideo si è pensato di dare anche un minimo di protezione gastrica ai pazienti lo studio era come vi dicevo uno studio di sicurezza quindi la maggior parte delle misure sono state misure di sicurezza ci sono state anche alcune misure preliminari di efficacia per vedere un pochino avere un primo flavor primo sapore di come potesse funzionare questo farmaco e ovviamente le misure essendo stato fatto lo studio su pazienti non deambulanti erano misure adatte a pazienti non deambulanti i dati lì sono pubblicati quindi vado veloce vi dico fondamentalmente che dal punto di vista della sicurezza e della tollerabilità della terapia sul periodo di un anno i risultati sono stati estremamente soddisfacenti con pochissimi drop out legati però a problemi indipendenti dalla terapia e abbiamo notato un lieve miglioramento in tutti i parametri di efficacia che noi abbiamo misurato con un parametro in particolare che ha dato una significatività statistica e qui vorrei fare mia la posizione di Michela Guglieri questo non ci dice che questa terapia è efficace è solo un incoraggiamento ad andare avanti perché questo studio non era disegnato e non aveva la potenza sufficiente per darci delle dimostrazioni di efficacia però siamo stati incoraggiati ad andare avanti e per fare questo con il sottosuggerimento di Filippo Buccella abbiamo sottomesso un protocollo di sviluppo in clinica di questa combinazione è stato sottoposto al comitato TACT del Treat and MD che lo ha giudicato positivamente e ci ha dato alcuni suggerimenti ci ha chiesto di fare degli studi di fase 1 su volontario sano e poi muoversi decisamente verso la clinica perché studi di fase 1 su volontario sano? ci hanno chiesto due cose assolutamente ragionevoli questi due farmaci sono due farmaci già in commercio e già utilizzati da lungo tempo ma non sono mai stati utilizzati in clinica in una combinazione fra di loro quindi è molto importante poter verificare se un farmaco influenza la concentrazione dell'altro e viceversa e quindi il primo studio è uno studio di interazione tra farmaci uno studio cosiddetto di farmaco cinetica per verificare appunto la esistenza o meno di queste interazioni il secondo studio sempre su volontario è quello che ci deve portare a ottimizzare la dose in altri termini fin dove possiamo salire come concentrazione di farmaci senza che questo sia nocivo al paziente quindi abbiamo disegnato con supporto finanziario di Parent Project questi studi abbiamo disegnato due studi di fase 1 su volontario sano il primo studio vi ho già detto è uno studio di farmaco cinetica ed è lo studio di cui vi porto i dati oggi che si è concluso un secondo studio è stato programmato è stato disegnato il protocollo e lo studio è in questo momento all'approvazione delle agenzie regolatorie che per l'Italia è l'istituto superiore di sanità in questo caso e poi eventualmente si potrà procedere oltre lo studio è stato condotto in una struttura di fase 1 l'unica in Italia che appartiene al sistema sanitario nazionale accreditata e certificata che soddisfa tutti i requisiti che sono richiesti dall'Unione Europea per gli studi di fase 1 e io credo che questo sia importante dirlo perché è stata questa collaborazione tra una struttura pubblica e una charity è forse un buon modello che può essere utilizzato per lo sviluppo di quei farmaci per le malattie rare non solo per la distrofia per i quali non c'è un supporto da parte dell'industria o perché il prodotto è un prodotto come in questo caso già generico oppure per prodotti che nascono in ambito accademico e che questo partnership possa essere efficiente è dimostrato anche dalle tempistiche che sono state sviluppate il progetto è stato finanziato a giugno del 2011 è stato approvato a luglio del 2011 dall'agenzia regolatoria quindi dal comitato etico dell'ospedale è iniziato a ottobre ed è finito a dicembre quindi un tempo assolutamente veloce e questo anche se erano coinvolte una struttura pubblica è stato portato avanti su 12 volontari che sono stati reclutati nel database dei volontari sani dell'ospedale universitario Luigi Sacco il trattamento che è stato utilizzato è stato il confronto tra ibuprofene da solo isosorbide da sola e la combinazione di ibuprofene più isosorbide di nitrato e lo studio è stato un classico studio di crossover randomizzato ovvero i 12 volontari tutti hanno preso le tre composizioni farmacologiche o ibuprofene o isosorbide o ibuprofene più isosorbide di nitrato ma alcuni hanno cominciato con ibuprofene altri con isosorbide altri con la combinazione dei due e il disegno è questo dopo la visita di screening e il reclutamento del volontario nella struttura di fase 1 c'è stata la somministrazione del primo farmaco qualunque esso fosse isosorbide la combinazione o ibuprofene il paziente è restato in osservazione per 12 ore durante le quali sono stati fatti 14 prelievi ematici per poter valutare la concentrazione dei farmaci dopo un periodo di tre giorni di washout il volontario è ritornato ha preso la seconda somministrazione di farmaco diversa dalla prima ancora 14 misure farmacocinetiche nel tempo washout, terzo farmaco ancora misure farmacocinetiche su tutte, sulle 12 ore disegnate ovviamente tenendo presente qual è il noto profilo farmacocinetico di isosorbide di nitrato e di ibuprofene nel tempo ovviamente c'è stato anche un assessment dal punto di vista della sicurezza e qua non c'è nulla da dire non c'è stato nessun problema di reazione avversa, evento è andato tutto molto bene e questi sono i dati di farmacocinetica voi vedete in blu il movimento nel sangue di ibuprofene quando dato da solo e in rosso il movimento nel sangue di ibuprofene quando associato a isosorbide di nitrato due considerazioni la prima è che l'esposizione giornaliera al farmaco non cambia se viene dato solo ibuprofene o la combinazione ibuprofene più isosorbide perché l'area sotto la curva che è quella che ci dice questo è sostanzialmente identica c'è un piccolo diciamo velocizzazione del picco massimo raggiunto nella combinazione ma questo è un effetto noto di nitrossido sugli antinfiammatori non seriodei quindi era largamente atteso e se infatti andiamo a vedere invece l'altro farmaco isosorbide voi vedete che non c'è nessuna differenza nel profilo ematico e di concentrazione di isosorbide quando data da sola o data in associazione a ibuprofene quindi questi dati sostanzialmente ci dicono e ci confermano come i dati dello studio pilota che la combinazione è assolutamente sicura e ci dicono anche che l'interazione tra farmaci non c'è e questo è estremamente importante perché permetterà una flessibilità nel dosaggio di ibuprofene e isosorbide eventualmente a seconda delle necessità del paziente e quindi ipoteticamente una ottimizzazione della terapia farmacologica questo è il primo studio siamo già partiti come vi dicevo con l'autorizzazione per il secondo studio di fase 1 la cui domanda è qual è la dose a che noi possiamo dare ai pazienti di questa combinazione di farmaci lo studio sarà fatto questa è una stima di potenza che è stata fatta su 20 volontari sempre uomini sempre del database dei volontari dell'azienda ospedaliera Sacco il protocollo vi dicevo che è sotto diciamo approvazione ma noi ci aspettiamo che venga approvato e che lo studio possa essere concluso entro fine maggio metà giugno di quest'anno questo è il disegno dello studio che noi abbiamo proposto i volontari riceveranno la combinazione di farmaci con noi abbiamo scelto di tenere ibuprofene che è già un buon dosaggio stabile di aumentare l'isossorbide di nitrato lo riceveranno per una settimana se va tutto bene ci sarà un aumento del dosaggio di isossorbide e poi se va tutto bene ancora di più e ancora di più i pazienti che dovessero sperimentare classicamente mal di testo ipotensione che è l'effetto che uno si può aspettare di isossorbide non riceveranno dosaggio maggiore ma resteranno in osservazione per una settimana ancora ed eventualmente dopo questa settimana si proverà ancora ad alzare e via così questo ci dirà qual è il massimo dose tollerabile ci dirà anche però la flessibilità che noi abbiamo nell'utilizzo della terapia cioè se noi possiamo qual è la tempistica eventualmente per alzare un dosaggio se questo è fattibile in pazienti che inizialmente possono avere delle difficoltà noi sappiamo che l'isossorbide di nitrato può dare mal di testa può dare un pochino di ipotensione ma di solito è un effetto transiente quindi questo è un pochino il percorso che noi stiamo seguendo e se tutto va bene noi speriamo poi in teoria noi dall'inizio del 2013 saremo anche in grado di fare un studio di fase 2 ovviamente uno studio teso all'efficacia quindi uno studio in double blind controllato da placebo ecco e con questo io vi ringrazio e ho finito mi vorrei ringraziare però le persone che hanno collaborato a tutto questo studio che è iniziato in realtà nel 2003 tutta la parte di lavoro preclinico è stata condotta insieme con Silvia Brunelli Clara Sciorati e Giulio Cossu inizialmente a San Raffaele io vorrei ringraziare molto Giulio perché con il suo entusiasmo con il suo supporto economico anche inizialmente e con soprattutto il suo supporto scientifico ha avviato molti di noi a lavorare nel campo del muscolo della miogenesi e della terapia della distrofia muscolare questo credo che sia un riconoscimento che va dato a Giulio perché ha fatto veramente molto per questo voglio ringraziare i clinici che hanno lavorato allo studio pilota che è stato condotto all'istituto Eugenio Medea grazie ad Angelo che è stato il neurologo responsabile insieme con Nereo Bresolin e Sandra Gandossini e ovviamente il team di lavoro all'azienda ospedaliera Luigi Sacco il gruppo dei farmacocinetisti con Dario Cattaneo Serena Fucile Clara De Palma che ha guidato un pochino le ultime fasi della parte preclinica e soprattutto vorrei ringraziare Maria Vittoria Cossu che è qua presente nella audience che insieme con Bianca Francucci che è la nostra esperta di regolatorio hanno disegnato i trial li hanno portati all'approvazione vi assicuro che interagire con le azienzie regolatorie non è a volte semplice hanno condotto Maria Vittoria fisicamente il primo studio di fase 1 e devo dire che c'è stato un grosso aiuto anche da una CRO che si è offerta di darci una mano dimensione ricerca voglio ringraziare Stefano Marini per questo e come sempre il ruolo importante anche di chi collabora a questi studi voglio ringraziare Genesia Carta che è la research nurse responsabile dello studio grazie a tutti per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti